L'errore della francese rallenta il ritmo anche con un scelto piuttosto chiaro Trent Lockett dall'altra parte però Flaccadori con spazio con la tripla della Dolomiti Energia. L'errore ancora di Mitrulong in penetrazione tanti errori da sotto per Milano Flaccadori da tre ancora a segno fuori Udom entrato Atkins Flaccadori palleggio arresto tiro esiziale dal comito ed eraglia nei pressi della canestra nuova occasione per l'Aquila con Flaccadori che realizza dal palleggio arresto e tiro. Milano accetta il cambio con all e alla fine le va anche bene Flaccadori contro Tonut il tiro e lo scadere dei 24 di Diego Flaccadori. Adesso il pallone per Flaccadori su di lui c'è Brandon Davis si alza Diego Flaccadori non si muove neanche la rettina.